ciao ragazzi benvenuti al terzo episodio ciao ragazzi benvenuti al terzo episodio di shadow warriors 3 senza la s in compagnia il grandissimo zado boy ciao zane e andiamo avanti un po perché mi aveva detto quando è passato che era carino di giocare un po insieme a questo gioco splatterissimo ragazzi allora i giochi sono giochi e attenzione non confondiamo giochi della realtà e è molto carino a e anche simpatico e divertente perché il tipo qua è veramente fuori di testa ok allora r1 r2 usi le cose che cambi con questo diceva un sacco di col destra e sinistra poi a questo non lo sapevo l1 selezioni l'arma x salti xx salta doppio xx r2 fa salto salto scatto sto spiegando i tasti e metti col zane è un canalone però ecco vedi guarda qua allora bisogna fare xx r2 sta roba verde la prende xx r2 ok cerchio passi sotto qui basta fare xx os vicini dicci ecco me ecco 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 quando vai alle 1 e alle 1 ho questo sbuglio raga è troppo divertente quando c'è una spadossa non c'è il mirino la vita è questa con il triangolo con le porte qua 2 ce ne sono addirittura bene dove sono ahah è morto uno è bam mmm no questo non c'è via non c'è via non c'è via ecco lì non c'è via non c'è via non c'è via non c'è via C'è uno, c'è uno ancora Tocage Oh, io dove sei? No, c'è un altro C'è un altro di questi stupidoni Finché non si ammazza il capo che è quello lì, continuano a spawnare Eccolo là Oh L1, R1 fa E poi, pam, li ghiacciano tutti Poi è bello che quando sono ghiacciati muoiono in un secondo Dov'è che è quell'altro Ok, basta Per procedere sono questi robi qui Ah, che fortuna C'è uno, c'è uno, c'è uno C'è uno, c'è uno C'è uno C'è uno, c'è uno Credo che ha deciso di non essere un dico sempre Dai fuori il palloncino Loro cado Questo è tosto C'è uno, c'è uno Vuoi provare a farlo tu? Purtroppo Allora Eh, vuoi provare? Dai, prova una volta il grandissimo Zonaboy Tanto per Per provare a vedere se gli piace Eh Perché lui è bravissimo Il cassetto che fa ragazzi L'R2 Questo qui in basso Scusa anche la spada Che la spada è gratta Bellissimo Questo ricarica le armi Ricarica la vita Quando fai quella roba lì Quello sopra di quello che spari E' la spada R1 Eh Guarda Si mettono nell'angolino No, è Questa è R2 E' sempre con la R1 La spada Sempre con la spada Ah no Non sempre fai R1 R2 Deve tipo caricarsi È una roba che Devi ammazzarne 5-6 Tu te lo fai Si mettono lì Ahaha Adesso fai che lo Quello cattivone Che bisogna prendere da lontano Perché lui vola Adesso verrai che a un certo punto ti verrà fuori L1 R1, vuol dire che si è caricata vedi che si era caricata eh ci vuole un boss, vedi che esplodono quando, eh questa qua non va un cavolo, è proprio da vicino 15 volte a pompa fa male, ma devi andare proprio sotto eh adesso esplode, hai visto? però se non altro adesso se lo lanci quello su altri nemici, ti gelano, eh lancialo con le R2, bravo, hai visto? no, hai preso quello di grosso, grande oh questo è ballwardo, no no no, questa c'è le lame che ti ammazzano gli spari da lontano con le R64-128 mitragliette potete che si carichi, eccolo, quello è mamma mia, la la ah, uno è veloce il secondo lancia le lame ah, due ce n'è ah, devi, vai vai ah, due ce n'è la cosa è bomba è tipo lancia granate se no è quello lì, poi, è quello l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo fatto ti ripremuto e boom, l'ultimo di là se lo stai sento perché quando si carica lancia, eh, non lancia quando vuoi ti riprate, attento alle lame porca, che plegnata ma ce n'è più di uno ne conviene farli fuori così con la pistolina ma questo devo gli dargli troppo vicino Lui lancia le lame Bravissimo, uno è dato Questo punto qua, vai lì con la flama da vero E tra sei quasi morendo, perchè loro lanciano le lame sono veramente... Attenzione, eh, bravo 2005 Mr. Doctor E' troppo forte questo gatto Però c'è Splatter Eh sì, è Splatter Una volta morto? No, c'è anche il box di prima Nooo, davvero? Attenzione, c'è 34 Di Vitas Eh, quelli devi proprio farti di da Lunciano Pian pianino Eh, lo stai inserendo Ah, eh, due ce n'è addirittura Eh, sì, perchè ci metti troppo poi... Attenzione Attenzione, mettiti sempre nell'angorino Eh, vai 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 Questo andrebbe bene, l'altro di fare un sacco, eh Vai, parla di mezzo Oh Vai, parla di mezzo Vai, parla di mezzo Oh, se l'hai fatta Grandissimo Oh, se l'hai fatta Grandissimo Oh, se l'hai fatta Oh, se l'hai fatta Oh, se l'hai fatta sei andato avanti ma sono proprio dove prima cosa no sono eh ti schifo, sparo lì no ah ok ah qui ti porta su no non ce la fai a prendere con la squadra c'è proprio bravissimo ok allora ci dovrebbe essere un cosa di girati a sinistra la da sparare che sale la piattaforma vai salta bravissimo adesso salta sulla roba lì bravissimo salta oh cacchio ah non hai colpi adesso ce li hai beh risali devi fare il giro ma vabbè ha aperto un coso scusami una roba con ah è non perché non ho fatto caso sai quella roba lì ah ti ha aperto di poter salire adesso però come fai a salire sopra no quello ah bravo da lì bravissimo poi si è partito il giro no questo è quello media ok devi beccare qui eccolo qua eccolo qua non è quello che lo so ok quindi non spararne tanti perchè ne hai cittadini giusti 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 guarda qua dovrebbe darti c'è anche a tempo eh vai adesso spara su quell'altro spara su quell'altro no già passi lì vedi che è a tempo ok ok allora qui allora qui oh grande zan eboy ho preso un potenziamento bella lì bravo 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 ecco le parti a tempo sono un po' noiose eh e lì devi far col triangolo eh bravissimo spiegate raga perchè sto spiegando a grande zan eboy oh ahahah con la r2 ah beh ce l'ho fatto ripartire qui allora se spari alle quale spariscono se spari sotto a quei robi lì sotto 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 quelli lì quelli lì ok li fai saltare con la roba gialla ahah fortissimo eh spara tutti ah no vabbè aspetta perchè si ecco quelli però no per mitragatori cioè mitragatori si ma devi prenderlo sopra c'è anche meno mitragatori ok quello non è ancora morto ahahah ahahah allora adesso vai dietro no vabbè ma se ne prendi muori per prenderlo intanto ce n'è questi dagli una rasegnata puoi anche buttarli giù se vuoi eh con non mi ricordo che tasto è fa così ah quello è quello è balordo quello è solo quando ti apre puoi prenderlo quando rimane chiuso non gli fai niente quello è proprio tosto e lancia le lame da panico ok bravissimo è proprio il detto eh ahaha probabilmente per lui non vale la pena E' un po' di più tranquillo per la spada. Sì, sì, sì. è vero grande trofeo la sua spada dai non ce l'hai più adesso è tratto perché ti prendi la spada sua e dura un tot arriva il nostro amico se lo prendi con due o tre palate di questo però gli fai male ne fai una e poi vedi vedi poi ti fanno arrivare anche gli altri eh due due colpi fateli quella spadina ah sono quelli nuovi ecco perché non ti dava la vita avevi tipo uno scudo attenzione attenzione 41 e no se ti fai incastrare così bravo attenzione devi stare molto attento a quelle che girano io andrei su un robo di quelli lì ecco bravo gira gira quanto vuoi ecco quelli bravo oh non so se in aria eh eh no guarda può poter anche congelarli vederle 1r1 di questi qui gli tiri via l'occhio beh voglio farlo si te lo fai adesso glielo tiri se lo cosciamo qua che gira e bam vai eh gli dai più di una ma no ma dai non l'ho fatto si 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 la fai no non l'ho fatto no non l'ho fatto non l'ho fatto eh ma non tutti con un colpo eh questo è tosto eh mi hanno dato ciò è tipo un boss no no non l'ho fatto non ti poterà aiutare una volta in un tempo ma io mi hanno dato ciò più ci sono dati tutti no buona non è esploso con ghiaccio ma così sm quello va si a ah ah c'è non c'è ah ah c'è 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 ? de c'è si c'è non saltare so what's our plan i just told you the freaking plant who's that maybe you were struck by a ray of my awesomeness listen those yokai's are the sharpest tools in the shed but they are ferocious relax hoji i'm telling you it'll be like stealing candy from a baby i don't think you're listening ferocious with huge razor sharp claws of course stealing from a baby is wrong and two wrongs don't make a right but three right always make a left right huge claws ambientazioni sono molto fige eh dobbiamo arrivare a 40 minuti un'ora di video eh poi andiamo avanti dopo una palestra lancia vai 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 vi sega è chiaro che figo guarda bellissima mentre lo stavi segando quando ce l'hai in mano eh quando ce l'hai in mano eh carino eh oh sono bombe quelle lì questi chi sono si ma sono esplosivi perché esplodono subito urca vedi sono esplodere ah si c'è i creeper di minecraft oh arriva un sacco di gente oh tutti ci sono sega contro sega oh oh è impossibile con quello lì no che lì sono tosse no quelli sono degli spargli a loro quando sono vicini così tipo bombe eh non ne hai più non hai armi non so no ok fai vai spargli che fa appoglio poca lo faccio ehh quei di farmi di 1R2 eh tu volendo su quel rap eh secondo me non gli fai niente ecco adesso si non l'hai beccato oh hai visto è con la spada te li manda indietro ti manda indietro i colpi quindi non gli fai niente quello lì con questo però quello si quello sicuro lo fai lo prendi usa un altro tipo di arma o bravissimo aspetta che si ferma questo questo giù basta o quello col cavolo che può secondo me quando gira non le fai niente fai 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 hai visto andato è forte tipo un minibot no questo non lo fai a prendere però ti lanciare la mano da pochissimi colpi eh hold on look look explosion non so cosa hai fatto amore mio grandissimo un altro bel trofeo booo no ah è vero a tre puntini c'erano l1 e r1 su qualcuno eh visto hai visto Non sopra che fanno la scuola Vessi smembrato smembrato sempre meno o forte forti facciamo ok diamo un attimo grande da ne vuoi bravissimo bravissimo ok non c'è niente bravo dai continua avanti dirà adesso cosa ci sarà 10 minuti ancora fermiamo il video poi andiamo avanti con un altro facciamo tutti i video da 40 minuti guardi i coniglietti sei una volta ne ha ammazzato uno poverini scusate è qui ah bisogna far tutto al giro ai 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 caramba e come lo facciamo al giro qui allora da qui devi entrare dentro il tempo devo andare da l'ottica ah è qua bravo bravo per fortuna non ci sono tipo collezionabili robe strane che bisogna stare lì a almeno non mi sembra che ci sia niente ci sono gli upgrade però eh schiacciano altri montaggi ecco bravo vedi ci sono i caratter qui quanti due upgrade quattro ce ne vuole cacchiarola allora io farei la primaria sinceramente ma poi le altre sono un po' ah ce ne abbiamo sei eh 4 aspettiamo uno così abbiamo prendiamo il trofeo di potenziare tutte un'arma e anche qui ce ne mancano altri due a quelli sono i potenziamenti beh fai il saltone lungo bravo bravo no il 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 ogni volta che c'è ora. Allora finito questo qui attenzione attenzione che esplodono attenzione attenzione bravissimo fai così che esplodono tra di loro è bravo ahah le hai presi in giro tutti no 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 si è pieno e pieno quelli sono terribili ho visto l'arma potenziarla è successo guarda che roba hai visto il potenziamento dove dovevamo farlo sento che cosa faccio ai sui potenziamenti dell'arma poi vai sparati più tanto che c'è questo c'è l'acqua r1 calo bello spero che ti ho dato ma quelli che vai con la spada muoreva già dato in testa adesso devi cercare vai da loro due perché se no continuano a respawnare tieni premuto adesso vai dai devi sparare non col colpo è così un gioco venga adeguarsi al gioco ok che va Spam! Eh segali perché se no se si continuano a spawnare arriveranno anche quelli grossi eh! Eh lo sapevo! Non so se è così per forza o se è... Ok! Ecco l'arma potenza, attenzione che esplodono! Attenzione, attenzione via! Bravo! Anche questi, vai! Bravissimo! Fai così i salti e loro esplodono come dei... Sai quando fai così ti spari della vita anche tu eh! Eh vabbè! Eh si eh si! E' sempre così! Ogni volta praticamente da... Ai 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 pochissima vita! Troppo vicino eh! Braffie! Mega te! Ok! La vita ce l'hai piena devi sparare a loro se no ti seguono! Ok! C'è anche quello là, quello là è quello che fa più danni di tutti! Sei morto stai? Eh! Va poi forte! C'è quelli davanti, devi prima secar loro poi! Vai! Bravo! No! Non lo spavano se non la ammazzi quella in mezzo! Questi qui non li devi lasciarli stare! Vai in mezzo lì! Se c'è un disastro! Vai! Ok! L'altro l'altro l'altro! Ehi! Perfetto! Ah no! si troppo in mezzo mazzano subito quelli che è uno degli ultimi ma poi risponano ok vai spiega quelli là in mezzo c'è solo uno e poi quello in mezzo quello in mezzo se non risponono ma quello non mi fai niente sono la mitraglia aspetta che in teoria si potrebbe prendere anche da dietro da dietro tantissimi se non si fa veloce continuano a spawnare ho già visto anch'io sta cosa lo fatti prendere se no continuano a seguirti e basta e sparali anche vai spari e sparali sono tantissimi se non gli spari e si finisce più qua vai ok sarà finita? si è finita ok ragazzi allora dopo questa cosa lunghissimus prime siamo arrivati alla fine di questa puntata e al prossimo video ripartiamo da qui ciao amici grande zane voi vi aspetto sul prossimo video di shadow warrior 3 e quindi ciao ragazzi alla prossima statemi bene mi raccomando di seguire il mio canale youtube questo qui dove metto un sacco di video commentate iscrivetevi e mi piace il mio canale twitch dove faccio le live e i social che è facebook instagram twitter e discord anche tutti gli altri we chat bla 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 ma gli importanti sono questi ciao ragazzi al prossimo ciao ciao Grazie a tutti.